Amici di GZ, oggi prepariamo una pasta super cremosa con il formaggio greco più famoso Pasta con feta e pomodorini al forno Pronti? Via! Verso i pomodorini nella teglia Aggiungo la feta La posiziono al centro Condisco con un giro d'olio Basilico fresco Una bella grattata di pepe Infornare in modalità ventilata a 200 gradi per 25 minuti L'acqua bolle, aggiungo una presa di sale e butto la pasta I pomodorini e la feta sono pronti Scolare la pasta al dente in teglia Una bella mescolata Finisco con qualche oliva denocciolata E origano secco Guarda che cremosa! Per un risultato più cremoso consiglio l'utilizzo di pomodorini belli maturi e succosi E' pronta la mia pasta con feta e pomodorini Assaggiamola! Buonissima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.